Siamo ormai in piena corsa agli Oscar, ormai manca circa un mese e mezzo alla cerimonia che, ricordiamolo, si terrà nella notte tra il 12 ed il 13 marzo, nella notte tra la domenica ed il lunedì, perlomeno qui in Italia, ed è ovvio che questo è il momento in cui cominciamo a capire in che modo anche poter guardare tutte le pellicole, o perlomeno la maggior parte delle pellicole, candidate agli Oscar. Quello che faremo oggi è proprio questo, vi darò una rapida lista di tutti quelli che sono i film che hanno ricevuto almeno una candidatura, ma terrò fuori da questo elenco i documentari, i cortometraggi, perché sono qualcosa di molto più specifico e che non è possibile recuperare molto facilmente, ma per tutti gli altri vi andrò a fare un elenco rapido di quelli che sono i modi per poter guardare il film in questione, anche se di alcuni in realtà ci sono ancora dei dubbi da dover chiarire. Però prima di iniziare, come sempre, io vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché mi aiuterete a farlo crescere ancora di più, e una volta iscritti, ricordatevi anche di cliccare sulla campanella perché così rimarrete aggiornati su tutti i prossimi contenuti. Quindi due gesti rapidi e semplici, ma che per me valgono davvero tantissimo. Quindi, passiamo a quello che è l'argomento del video di oggi, parliamo ancora di Oscar, siamo davvero ormai nel pieno di quella che è la cosiddetta Road to Oscar, quindi la strada che ci porterà appunto alla cerimonia del 12 di marzo. Tanti sono i film candidati nelle varie categorie, chiaramente, passando dal miglior film, miglior regia, tutte le categorie tecniche, chiaramente anche di vari attori, le varie attrici che sono state candidate. Quello che voglio fare oggi, insieme a voi, è infatti una lista abbastanza rapida, perché chiaramente non mi andrò a soffermare nel parlare di ogni singolo film, anche perché alcuni di questi film in realtà ancora non li ho visti, ma appunto vi andrò a dare una rapida, non diciamo, andrò a snocciolarvi rapidamente, proprio tutti i film candidati agli Oscar e il modo che avremo da qui al 12 di marzo per poterli eventualmente guardare. Innanzitutto partiamo da uno dei film che ha ricevuto il maggior numero di candidature, insieme anche ad Everything, Everywhere, All at Once, ma voglio partire con niente di nuovo sul fronte occidentale. Diverse candidature appunto per questo film che potete già guardare adesso su Netflix, un film che io ho già recensito, tra l'altro, quindi potete guardare la mia recensione nel canale, ne ho già parlato, lo trovate su Netflix. Passiamo ad Avatar 2, La via dell'acqua, questo mi sembra abbastanza semplice dover dire che lo potete trovare ancora nelle sale, e io credo che lo troveremo nelle sale ancora per tanto tempo, sta avendo un grandissimo successo come era ampiamente prevedibile, quindi lo trovate facilmente, perlomeno nelle mie zone, è ampiamente diffuso ancora in tutte le sale in cui era in programmazione già un mese fa, quindi Avatar 2 al cinema. Passiamo a Gli spiriti dell'isola, un film che invece arriverà, deve ancora arrivare nelle sale, lo farà qui in Italia a partire dal 2 di febbraio, quindi a partire dal 2 di febbraio un nuovo film di Marty McDonough, che tra l'altro uno dei più attesi proprio per quanto riguarda questa cerimonia degli Oscar, perché anche questo ha ricevuto tante candidature, viene descritto come uno dei migliori film dell'anno, quindi staremo a vedere. Quindi Gli spiriti dell'isola a partire dal 2 di febbraio. Poi abbiamo Elvis di Buzz Lurman, è un film che potete già trovare sia attraverso tutte quelle che sono le piattaforme di noleggio o di acquisto digitale dei film, Cili, Rakuten, credo sia possibile farlo anche su Google, credo anche su YouTube, comunque tutte quelle che sono le varie piattaforme di noleggio o di acquisto in digitale, e poi lo potete trovare anche in home video, DVD, Blu-ray, c'è anche una bella steelbook che tra l'altro io ho acquistato, quindi Elvis lo potete già trovare chiaramente a pagamento, ovviamente. Passiamo poi a Everything Everywhere All At Once, un film che potete trovare in questo momento in home video, perché è davvero roba recente il fatto che sia uscito già in home video, ma vi ricordo anche che se siete interessati a questo film, in Italia ritornerà in sala a partire dal 2 di febbraio. Ha già avuto un passaggio nelle sale, ha già avuto un passaggio al cinema, ma ritornerà nelle sale anche alla luce dell'enorme successo che ha avuto a partire dal 2 di febbraio. E passiamo poi a The Fablements, il film di Steven Spielberg. Ora, potrebbe essere ancora presente in qualche sala, anche se nelle mie zone il film, come dire, ha avuto una netta riduzione di quella che è la distribuzione nel cinema, però potreste ancora trovarlo e purtroppo al momento è l'unica opzione per poter guardare il film di Spielberg. Quindi The Fablements lo trovate, mi auguro, spero, soprattutto se non doveste ancora averlo visto, potreste trovarlo nelle sale. E passiamo a Tar, un film che arriverà qui in Italia in sala al cinema a partire dal 9 di febbraio, un film da tenere d'occhio soprattutto per la presenza di Cate Blanchett, che è una delle maggiori papabili per quanto riguarda la vittoria dell'Oscar come miglior attrice protagonista. Quindi a partire dal 9 di febbraio Tar arriverà nelle nostre sale. E passiamo poi a Top Gun Maverick, un film che ha avuto anche diverse candidature, alcune anche a sorpresa. Un film che in questo momento potete trovare sia su Paramount Plus, chiaramente una piattaforma alla quale bisogna abbonarsi per poter usufruire di quelli che sono i contenuti, ma lo potete trovare anche in tutte le varie piattaforme di noleggio o di acquisto in digitale, le stesse che ho citato poc'anzi, così come lo potete trovare già in home video. Anche io l'ho già acquistato, ho preso la Steelbook, ma potete trovare anche il DVD, il Blu-ray di Top Gun Maverick e quindi potete recuperarlo a pagamento. Passiamo poi a Triangle of Sadness. Purtroppo di questo film non c'è traccia in questo momento in Italia, perché ha già avuto un passaggio nelle sale, a quanto pare, ma in realtà io non ne ho ricordi, non ne ho memorie, quindi chissà che magari non avrà un ulteriore passaggio in sala, al cinema, magari proprio alla luce di quelle che sono le candidature che ha ricevuto per gli Oscar, però purtroppo al momento c'è un po' di buio attorno a questo film. Quindi dobbiamo attendere delle notizie più, diciamo, più fresche. Triangle of Sadness al momento non è recuperabile. Poi abbiamo Women Talking, un film che arriverà nelle nostre sale, a quanto pare, a partire dall'8 di marzo, quindi dobbiamo aspettare qualche giorno prima rispetto alla cerimonia degli Oscar per poter recuperare questo film, quindi Women Talking a partire dall'8 di marzo. Poi abbiamo The Whale, film che risulta essere particolarmente interessante, soprattutto alla luce di quella che è la candidatura di Brendan Fraser come miglioratore protagonista, e si vocifera che possa essere anche lui uno dei favoriti alla vittoria degli Oscar, The Whale arriverà nelle nostre sale a partire dal 23 di febbraio, quindi alla fine del mese di febbraio. Passiamo ad After Sun, un film che ha ricevuto una candidatura, ma importante, per Paul Mescal, protagonista principale, quindi chiaramente attore protagonista, ed è un film che in questo momento potete trovare su Mubi. Un film che tra l'altro ho recensito abbastanza di recente, quindi eventualmente per poter sapere, per poter capire di che cosa parla questo film, potete recuperare il mio video. Passiamo adesso al film Living, è un film che non credo avrà un passaggio nelle sale qui in Italia, perché non ci sono notizie in merito, poi magari le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane, è più facile che a breve invece si possa avere la distribuzione attraverso quelle che sono le piattaforme di noleggio o di acquisto digitale, e quindi poi anche attraverso l'on video. Però al momento, al momento il film Living non è disponibile, non lo si può guardare, purtroppo. Passiamo adesso al film Blonde, un film che ha avuto una candidatura, ma anche in questo caso abbastanza pesante, perché è la candidatura di Ana De Armas come miglior attrice e protagonista, ed è un film che io tra l'altro ho recensito alcune settimane fa, un film che a me è piaciuto, come dire, ho detto più di una volta che non comprendo le critiche mossa nei confronti di questo film, e che potete trovare su Netflix, quindi Blonde lo trovate già su Netflix. Un altro film è To Leslie, un film che un po' come abbiamo detto poco fa per Living, in questo momento non è recuperabile in alcun modo, non credo che avrà un passaggio in sala nella nostra nazione, è più facile che si possa avere la distribuzione attraverso le piattaforme di noleggio o di acquisto in digitale, e quindi chissà, anche attraverso l'on video. Quindi, To Leslie, dobbiamo attendere notizie in merito. Poi abbiamo il film Causeway, un film che in questo momento avete la possibilità di recuperare attraverso la piattaforma Apple TV+, una piattaforma che io consiglio sempre di tenere d'occhio, per quanto sia abbastanza, lasciatemi passare il termine, un po' elitaria, perché comunque ci sono contenuti ben specifici, è una piattaforma comunque interessante, ed il film Causeway lo potete trovare proprio lì, su Apple TV+. Passiamo poi a Black Panther Wakanda Forever, un film che, a quanto pare, arriverà su Disney+, a partire dall'1 di febbraio. È facile, come dire, intuire che poi, diciamo, nelle settimane successive, questo film possa arrivare anche, per esempio, in on video, però a partire dall'1 di febbraio lo possiamo ritrovare su Disney+. E passiamo a Nice Out, Glass Onion, un film che è presente già su Netflix da diverso tempo, da diverse settimane, così come il primo film, chiaramente Glass Onion è un sequel, lo potete trovare già su Netflix, quindi potete guardarlo lì. Passiamo adesso ad Argentina 1985, un film che ho già recensito alcuni giorni fa, alcune settimane fa, vi consiglio di guardare il video, vi consiglio di guardare anche il film, che in questo momento potete trovare su Prime Video, quindi grande film, film molto interessante, Argentina 1985, su Prime Video. E passiamo al film Close, questo è un piccolo grande enigma, perché è ufficialmente presente ancora nelle sale italiane, ma il problema è capire dove sia presente, perché nelle mie zone, per esempio, non c'è mai stato, da quello che sento in giro anche nelle altre grandi città, il film tutto sommato non è che sia disponibile così facilmente, quindi è ufficialmente ancora presente nelle sale, date un'occhiata alla programmazione dei cinema nei vostri dintorni, perché potreste trovarlo, quindi il film Close. Passiamo poi al film I.O., un film con un asinello protagonista principale, vale un po' lo stesso discorso di Close, perché ufficialmente è stato distribuito in sala qui in Italia, potrebbe ancora essere presente al cinema, ma bisogna vedere appunto anche qui dove è presente, nelle mie zone purtroppo non c'è, pare, pare, ma non è ufficiale questa cosa che vi sto per dire, pare che potrebbe essere distribuito a breve, prima della cerimonia degli Oscar, attraverso la piattaforma Netflix, ma ripeto, non c'è niente di ufficiale, dovremo attendere qualche notizia in merito nelle prossime settimane, quindi il film I.O. ufficialmente nelle sale potrebbe ufficiosamente arrivare su Netflix a breve. E passiamo al film The Quiet Girl, un film che uscirà nelle sale italiane a partire dal 16 di febbraio, salvo cambiamenti, salvo chiaramente dei posticipi, ma dovrebbe arrivare nelle nostre sale a partire dal 16 di febbraio, The Quiet Girl. E passiamo adesso al Pinocchio di Guillermo del Toro, un film che io ho già recensito, del quale ho parlato, l'ho inserito nella mia personale top 10 del 2022, in cima a tutti gli altri, ed è un film che potete, e io vi consiglio davvero di farlo, recuperare su Netflix già adesso. Dategli un'occhiata, dategli una possibilità, perché vi ritroverete di fronte ad un grande gioiello di Guillermo del Toro. Quindi, Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix. E passiamo adesso a Marcel The Shell We Show's On, un film d'animazione che arriverà nelle nostre sale a partire dal 9 di febbraio, salvo contrattempi, che comunque credo non ce ne saranno, ma arriverà appunto nelle nostre sale Marcel The Shell We Show's On, a partire dal 9 di febbraio, un film che mi incuriosisce parecchio, tra l'altro. Un altro film d'animazione che possiamo prendere in considerazione è Il Gatto con gli Stivali 2, che dovrebbe ancora essere presente nelle sale in maniera abbastanza diffusa, è presente nelle mie zone, ma bene o male, da quello che ho capito, è ancora in grado di, come dire, permettere agli spettatori di poterlo recuperare attraverso appunto la visione al cinema, e lo trovate proprio al cinema. Un altro film da prendere in considerazione è Il Mostro dei Mari, qua stiamo parlando ancora di animazione, un film che è già presente su Netflix, quindi potete già recuperarlo proprio attraverso quella piattaforma. Un altro film d'animazione da citare è Red, che invece è presente, chiaramente, sulla piattaforma di casa Disney, appunto, Disney+. E passiamo invece a Babylone, di Babylone di Damien Chazelle, è un film che ovviamente è uscito relativamente da poco in sala, al cinema, e quindi lo potete trovare ancora nelle sale. Io l'ho recensito, anche in questo caso è una recensione di qualche giorno fa, a me è piaciuto parecchio, per quanto abbia alcuni problemi, ma vi consiglio di andarlo a vedere, se siete anche un minimo interessati a Babylone di Damien Chazelle, andatelo a vedere in sala, andatelo a vedere al cinema. Un altro film da prendere in esame è Bardo di Ignarito, una piccola grande delusione, per quanto riguarda queste candidature agli Oscar, e perché ha ricevuto soltanto una candidatura, lo trovate su Netflix, è un film che io ancora devo recuperare, quindi ancora non l'ho visto, non ne so parlare. E passiamo poi a Empire of Light, stiamo arrivando verso la conclusione di questo elenco, Empire of Light lo potete trovare, lo potremo trovare più che altro in sala, ora ci sono delle, come dire, discrepanze in quella che è la data ufficiale, perché o uscirà il 23 di febbraio, oppure il 3 di marzo, quindi staremo a vedere in maniera ufficiale quando arriverà nelle nostre sale, però teniamo d'occhio la parte finale di febbraio e la parte iniziale di marzo, quindi tra il 23 di febbraio e il 3 di marzo arriverà nelle nostre sale Empire of Light. Passiamo poi alla signora Harris, va a Parigi, un film che è possibile già recuperare attraverso le piattaforme di noleggio e di acquisto in digitale e dovrebbe essere presente anche già in home video, se non ricordo male, sia in DVD che in Blu-ray, quindi è possibile recuperarlo, chiaramente, a pagamento. Passiamo agli ultimi film, perché? Perché abbiamo innanzitutto RRR, che è stato candidato, che ha ricevuto una candidatura per quanto riguarda la canzone di questo film, e lo trovate su Netflix già da adesso. Poi abbiamo un film del quale purtroppo ancora non si sa nulla ed è stato candidato proprio per la canzone presente in questo film, ed è Tell It Like a Woman, purtroppo non ho trovato nessun tipo di notizie al riguardo, quindi non ho idea di dove poter recuperare questo film, ma è chiaro che stiamo parlando di una canzone, quindi male che vada, la canzone è facilmente recuperabile attraverso, chiaramente, tutte le piattaforme che lo permettono, tra queste, chiaramente anche YouTube. Chiudiamo, secondo me, anche in bellezza, perché? Perché voglio prendere in esame il film The Batman, un film che, al momento, potete trovare sia su Sky che su Now, nel caso in cui doveste avere l'abbonamento, chiaramente, ad una delle due piattaforme, oppure lo potete facilmente trovare attraverso sia le piattaforme di streaming, scusate, le piattaforme di noleggio e di acquisto in digitale a pagamento, ma lo potete trovare anche già da diverso tempo in home video, tanto che, infatti, ho acquistato le tre steelbook da collezione di questo film, di The Batman, meravigliose, tra l'altro, però lo potete trovare anche in DVD o in Blu-ray, sarebbe meglio il Blu-ray per un film del genere, proprio per poterselo godere appieno. Quindi, questa era la carrellata che vi volevo, proporre, per quanto riguarda i modi che abbiamo per poter recuperare i film candidati agli Oscar, chiaramente, se ci sono dei cambiamenti, ci riaggiorniamo qui sotto nei commenti, se ci dovessero essere ulteriori possibilità, e se magari voi doveste accorgervene, fatemelo sapere qui sotto tra i commenti, perché ovviamente sarà utile, per tutti coloro che vorranno a poco a poco, a poco a poco, approcciarsi alla cerimonia degli Oscar, avendo visto tutti o quasi tutti i film candidati. Quindi, questa era una guida rapida al recupero dei film candidati agli Oscar, mi auguro che sia stata utile a tutti voi, io come sempre vi invito innanzitutto ad iscrivervi al canale, nel caso in cui non doveste averlo fatto, vi rinnovo l'invito anche ad attivare la campanella, per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti, date un'occhiata anche qui sotto in descrizione, perché trovate diversi modi per poter ulteriormente supportare il canale, iscrivetevi al mio canale Telegram, per esempio, potete lasciare un commento con l'opzione super grazie, che vi permetterà di mettere in evidenza il commento, e sostenere inoltre il canale, e poi trovate tutte le mie pagine social, quindi mi potete seguire su Instagram, su Twitter, così come anche su Facebook. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarmi, guardando i miei video, noi ci becchiamo ad un prossimo video, chissà che magari non sarà nuovamente a tema Oscar, perché ho intenzione di sviscerare un tema, un tema non particolarmente lungo, ma una cosa che mi è in qualche modo arrivata in testa, mi è sopravvenuta alla mente, proprio perché è relativa proprio alle candidature, ma, diciamo, da qui al 12 marzo ci sarà modo di parlare tante volte appunto degli Oscar, noi ci becchiamo anche in una prossima video recensione, in una prossima puntata delle tante rubriche che sto portando avanti qui nel mio canale, io, come sempre, vi auguro anche una buona continuazione di giornate, ci vediamo presto, ciao a tutti!